Sembra la stessa cosa Vabbè, almeno apriamolo Spacco tutto, faccio stroso Che benessere Vabbè, lo scatolo è simile all'altro C'è come praticamente un iPhone 15 Questa volta un po' più grande perché l'ho allungato Però almeno è bianco rispetto all'anno scorso che è oro dopo un po' mi ha stancato Ah, spascio, spascio Uh, che benessere Lo alzo e la peppa Però è carino Vediamogli la pellicola Qui c'è il cavo Sembra carino Ah, finalmente, il primo che si lamenta E c'è la lightning E vabbè, dopo anni finalmente è arrivata È arrivata, certo, non per volontà di Apple Però c'è la Type C Eh, pur veloce perché io ho il Pro Max Figo, figo, figo Oh, gasatissimo Vediamo un po' È arrivato il momento di accenderlo Vediamo se questo a differenza del MacBook si accende Per cortesia Sì, si è acceso Top Vabbè Lo voglio configurare Lo voglio sistemare E poi dopo vi do anche un po' di prime impressioni E ci vediamo anche qualche gadget Perché Vero, non sono arrivati tutti Ma Sfascio tutto Qualche gadget c'è Vi aggiungo tra poco Allora amici miei Tornando un attimino seri Vi spiego perché ho realizzato quest'unboxing In maniera un po' diversa Uno perché ormai già ci sono 150 miliardi di unboxing E quindi volevo fare qualcosa effettivamente di diverso Due perché Effettivamente È così che mi sto vivendo Diciamo questi nuovi iPhone Passando nello specifico Da uno stato di Diciamo Noia A uno stato di hype assurdo Noia perché effettivamente Inizialmente Non mi hanno detto quasi nulla No? Nel senso Sembrano tutti uguali Sembra la stessa cosa Alla fine cambia poco E tutte queste cose qua E invece hype assurdo Perché Guardando poi invece i video Visto che le fotocamere Sono effettivamente fighe La 5x è una cosa assurda E tutto il resto è figo Bello il frame Bello tutto Tutti belli entusiasti E quindi Ecco che Mi arriva un po' l'hype No la curiosità Anche perché comunque La passione per la tecnologia Rimane sempre Quindi a prescindere Quella curiosità Di base C'è sempre E quindi Volevo fare questo unboxing Per farvi capire Effettivamente Come me la sto vivendo Questa situazione Prima però Di buttare giù Un po' di considerazioni Perché l'ho propicchiato Pochissimo Ovviamente Lo proverò meglio Sto ancora scaricando Tutte le app Però comunque Prima di dare un po' Di prime impressioni Apriamoci pure Un po' di gadget E quindi un po' di cover Ne devono arrivare altre Tantissime E anche altri gadget Un po' particolari Però per il momento Accontentiamoci di queste qua Che mai non sono Non sono Queste di Elago Non so effettivamente Cosa sono Perché Ho detto Mandatemi quello che volete Lasciate sta Mentre da questa parte Ho Mugeot E quindi Vediamo un attimino Quella di Mugeot Prima di tutto Che invece Conosco È sempre MagSafe Non capisco poi Se funziona effettivamente Bene questo MagSafe Ed è in pelle nera Molto bello Ovviamente Qui ora c'è il pulsantino Non c'è più Quello scanso Per lo slider E quindi Top Carina Ovviamente La solita cover Di Mugeot Che ci sta sicuramente Molto bene Attorno all'iPhone Questa volta Me la son fatta Mandare nera Perché Voglio fare un po' Il kit Total Black Eccetera E ovviamente Ci sta che una favola Ma su questo Sincero Non avevo proprio Dubbi A me le cover Di Mugeot Piacciano troppo Ne sono uscite altre Che devono arrivare Ancora Per il momento Mi tengo questa Però Bella 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 Ovviamente Fatta bene di qua Fatta benissimo I tasti E top Mugeot Sempre al top Ah raga Questa cosa ve la devo dire Prima di qualsiasi altra Prima impressione C'è una cosa grafica Che mi fa impazzire Se voi Io ho messo Che con questo tasto nuovo In poche parole Mi si va ad attivare sempre Suoneria Non suoneria Eccetera Eccetera I bordi Secondo me Devo studiarmela meglio Questa cosa Sono un po' Più tondi E hanno fatto Questa animazione Un po' Troppo grande Un po' Troppo strana Va tutto sotto i bordi Una cosa assurda Dall'eclip Vi sarà tutto più chiaro Ma è bruttissimo Apple Fai un aggiornamento Risolvo questa cosa Perché veramente Mi fa impazzire Animazioni bellissime La Dynamic Island Mamma mia E poi mi fa questa cosa Mi è saltato proprio Il nervo Di una cosa assurda Odio queste cose Apple Poi stiamo parlando Quindi Per favore Risolvimi sto problema Detto sta Fatta sta parentesi Vediamoci invece Le cover Di Elago Facciamo di questo Ci apriamo la prima Questa qui È in Ah Questa qui È quella in silicone Molto carina Questa è di questo colore Qui Molto interessante Per chi magari Vuole risparmiare Ci può stare Molto Molto interessante Come cover Make the taste Tutto questo Se qui Sembrava pure carina È tipo grigio chiaro Un sabbia Non vi saprei proprio Spiegare al 100% Però Sembra Sembra interessante Sembra interessante Ovviamente non c'è il logo Apple Però Bella Ovviamente MagSafe La proveremo sicuramente E poi vi Aggiornerò Tra l'altro Penso di farvi qualche clip Con tutte le cover Così ve le vedete un po' Tutte con calma Ok Faccio anche di questa Vediamoci questa qui Vediamo che cos'è Ah Ne ho un'altra Sì È un'altra uguale Però grigio chiaro C'è grigio scuro Quindi abbiamo Grigio chiaro E grigio scuro Grigio chiaro E grigio scuro Non so male Non so male Preferisco questa qui Un po' più chiara Forse Mi piacciono i colori Un po' più chiari Vediamo questa invece Di che si tratta Vediamo un po' Ah questa è la classica Cover ragged Cover ragged Di Elago Che pure Sembra Interessante La faccio vedere Di così pure Anche questa magsafe Bello che tutti i gadget Di Mujo Sono Cioè di Mujo Di Elago Sono tutti Magsafe Quindi top Molto molto bene La proveremo La proveremo E vi dirò Non male Non male Vi farò sicuramente Qualche B-roll Carine Molto molto carine Per il momento Sapete che ci metto? Gli metto Questa qui Di Elago Diciamo Chiara Allora partiamo dal fatto Che mi aspettavo Una cosa molto più tragica Per quanto riguarda Le dimensioni Quello che dicevano online Effettivamente È vero È proprio Leggero Cioè vedete proprio Questa cosa che è leggero Sembrano quasi Dello stesso peso 14 pro E 15 pro max Quindi bene Sotto questo punto di vista Sicuramente Utilizzate una mano Comunque ancora impossibile Però Oh Lo vedo proprio più Piacevole da utilizzare Bello Mi dà più sicurezza Lo vedo solido E soprattutto Più piccolo Sembra Non vi so dire Sarà di poco più piccolo Però io lo sento Particolarmente Cioè la sento Particolarmente Questa cosa Quindi Molto bene Sotto questo punto di vista Super soddisfatto Mi piace molto Questo dettaglio Del Diciamo Contorno delle lenti Non più lucido Come il frame Ma Diciamo così Opaco In un certo senso Ci dà questa sensazione Un po' più Interessante Dico questo Perché effettivamente Proprio all'occhio Allo sguardo È proprio piacevole Da guardare Vi dà Quell'anche sentore Di novità Vedete che si Si percepisce un po' La differenza Magari con qualche biroll Sicuramente vi sarà Tutto più chiaro Questo titanio Attorno Non è male Non è male Devo dire la verità Molto molto carino È uno Uno spazzolato Non proprio Super evidente È un qualcosa Che mi piace Particolarmente Quindi piacevole Anche sotto questo Comun di vista Prende le ditate Sì Assolutamente sì E mi sembra Praticamente la stessa cosa Di quest'altro materiale qua Cioè non ci vedo Grosse differenze Sarà magari solo Più resistente Però comunque le ditate Si vedono Particolarmente Sotto questo Comun di vista Arriva la type C Tutto a posto Vedremo poi Il senso di questa type C Qui sotto E poi c'è questo tasto Action Che ho visto essere Anche abbastanza Personalizzabile E questa cosa mi piace Sicuramente Voglio approfondire Sotto questo punto di vista E vedere anche Magari con le full immersion O comunque con Proprio l'app Comandi Cosa effettivamente Si può fare Perché Sembra veramente Tanto Tanto Interessante Ho provato un po' Questa cosa Delle fotocamere Per capire un po' Anche questo 24 mm 28 mm 35 E tutte queste cose qua Ed effettivamente Secondo me Questa potrebbe essere Veramente una cosa figa Perché me l'ho imposto Fisso a 35 mm Ho sempre la focale Che mi piace di più Diciamo per fare le mie foto La 5x È stata poco La proveremo Forse ci facciamo un viaggio Anche insieme Per provarla bene Sto già programmando tutto Mi sembra molto figa La 5x Però va provata E vedremo Vedremo Sotto questo punto di vista Di sicuro Vi dico in maniera Molto sincera Che non è un qualcosa Che mi fa dire Wow Perché effettivamente Io la lente zoom Su iPhone Non la uso La uso pochissimo Se la uso La uso pochissimo Quindi vedremo Anche sotto questo Punto di vista Ovviamente c'è la Dynamic Island Ovviamente il bordo Attorno è un po' Più sottile Vi ripeto però Che questa animazione Questa cosa dell'animazione Che mi fa Questo gioco Veramente brutto Mi fa tanto Tanto nervosire Ma proprio tanto Perché Apple ci tiene I dettagli Le cose Apple mi fa Fa sto errore Che proprio mi fa Impazzire Mi fa veramente Impazzire Per il resto Sembra il solito iPhone Sinceramente Nell'intro avete visto Wow mamma mia Che bello E carino Sì effettivamente È carino Questa cosa del frame Ovviamente Molto bello È sempre un iPhone Eccetera eccetera Sono contento di Essere tornato al Bianco Perché è un colore Che a me piace troppo Su iPhone Non c'è poco da fare Per me l'iPhone Deve essere bianco Loro dopo un po' Mi ha un po' Stancato effettivamente Però Parlandoci chiaro Anche Tenendolo in mano La sensazione di Novità C'è Ma non è proprio Mamma mia Va approvato Va capito questo nuovo Processore a 17 Pro Come va Va capite le fotocamere Vanno capite un sacco di cose Però Ecco A primo impatto Non vi riesco a dire Mamma mia No Quest'anno Più di altri anni No Sincero Poi magari Ci ripenso Non lo so Fatemi sapere anche la vostra Magari se avete comprato un iPhone 15 Pro 15 15 Plus 15 Pro Max Fatemi sapere Sono contento Sono contento Perché da passione tecnologia Sono contento di poter provare qualcosa di nuovo Di cambiare un po' l'iPhone Di cambiare anche qualcosa con le dimensioni Eccetera eccetera Facciamo pure questo esperimento Però per tutto il resto Voglio Darvi un mio parere Dopo un po' Infatti la recensione penso che arriverà un po' più in là Cioè Settimana prossima Scordatevi la recensione Assolutamente Lo proverò un po' di più E poi ne parleremo Forse Vabbè Non vi spoilerò Qualcosa Settimana prossima forse esce Però Non vi aspettate la recensione Perché voglio provarlo veramente tanto Quindi Se avete Domande Dubbi Volete dei test specifici Scrivetevi tutto qui sotto nei commenti Perché ci tengo E cercherò poi di rispondere al meglio anche nel video Detto questo Grazie mille per il supporto Spero che questo video vi sia piaciuto Molto semplice sicuramente Però Anche per farci un po' di compagnia Anche per far vedere che effettivamente L'ho acquistato Io ho acquistato il 15 Pro Max Bianco 256 giga Questa è una cosa figa Non ho mai avuto uno smartphone con 256 giga 1500 euro Mamma mia Però costa meno rispetto agli altri anni Quindi questa è una cosa che va detta Vedremo Ne parleremo Ditemi la vostra qui sotto nei commenti Ci tengo Ciao